Allenamento Sampdoria continua la preparazione in vista della Roma. Gunter e Rincon in campo, Sabiri e Turk fuori esercizi per le finali, partite tattiche in piccoli spazi, integratori in palestra e forza elastica per le nazionali di ritorno. Questo è il programma che, in vista della gara domenica contro la Roma, la Sampdoria di Dejan Stankovic ha seguito nel pomeriggio sul campo 2 del Mugnini-Bogliasco. Thomas Rincon ha raggiunto i compagni come da copione dopo gli impegni con le nazionali mentre Abdelhamid Sabiri e Martin Turk sono stati esonerati per sintomi influenzali. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Coray Gunter, programmi di riabilitazione per Emile Audero e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, è prevista una sessione mattutina.